via. Allora, la zone, Adrian Barnabé è da Serie A? Sì, assolutamente, totalmente, pienamente, non vedo l'ora di vederlo. Ti chiede Tiziano, dopo aver chiesto il tridente Gudmundsson-Retegui-Vitigna, aver visto, cosa ne pensi? Molto, molto bene, perché Vitigna è su di condizione e fa un lavoro molto utile e lo stesso Gilardino mi pare abbia detto che è una soluzione che può essere riproposta, a me è piaciuto il Genoa, per 60 minuti ha fatto veramente bene. E Aldo ti chiede, cosa ne pensi di quello che sta facendo Toven per l'Udinese? Penso che Toven sia un giocatore che in questi anni poteva dare molto di più di quello che ha dato, non è solo colpa sua, però Toven, nella mia idea, è un giocatore molto importante, in questi ultimi anni non si è visto questo. Albert Mec, un commento su United e Liverpool, DFA Cup? Spettacolo. Bene, sintetico. Che goduia. Non capisco perché Luca chiede se si salva il Brentford, perché? Non dovrebbe salvarsi? Beh, sai, c'è sempre la possibilità che non si salvi, io dico che si salva. Ok, più di una persona ti chiede, Ciuqueze, soffre della maledizione di Trevisani o si è ripreso? No, non esiste, guardate, questa è una certezza che vi do, prima ho detto che nel calcio non c'è verità, una c'è, giornalisti e telecronisti non possono influire su nessun tipo di prestazione di risultato, questo è assolutamente pacifico. Ciuqueze, secondo me, è un giocatore che, però ve lo dico dopo perché prenderei troppo tempo, ma ci tengo a dirvelo prima della fine della trasmissione, lo facciamo fuori e clessidra. Molto bene. Chi mince il playoff in Serie B? Prima devi dire che arriva secondo. Prima vediamo chi ci va ai playoff in Serie B. No, non lo so dire, no, non lo so, sparare cose a casa non mi piace. Teo ti chiedo un parere su Spence del Genoa. Spence è un giocatore che ha una gamba veramente interessante, per fare questo ruolo in Italia deve aumentare le proprie qualità difensive, perché sull'azione poi dell'intervento su Chiesa è stato veramente fortunato di averlo fatto qualche centimetro prima dell'area di rigore, se no sarebbe stato un penalty. Però la gamba c'è, deve lavorare nell'ispessimento delle qualità difensive. Matteo Lanzone, dove vedresti bene Gilardino, Palladino ed Ezerbi l'anno prossimo? Allora, Gilardino lo vedrei molto bene ancora a Genoa, perché penso che possa continuare a crescere con un club in crescita. Palladino, Palladino alla Lazio non mi sarebbe dispiaciuto, però Palladino è un allenatore da salto ancora in alto. Io adorerei Ezerbi e Liverpool, però dove vuole andare? Ezerbi è un allenatore che mi piace tantissimo e avrà sempre il mio supporto. Filippo ti chiede, Baroni alla Fiorentina, visto che è di Firenze? Nemo profeta in patria, dicevano i latini, per cui non so se augurarglielo in questo senso. Però, ripeto, bisogna anche vedere la Fiorentina come si classifica, se si qualifica per la Champions League, per l'Europa. Baroni è un allenatore bravo e di allenatori bravi c'è sempre bisogno. Io non credo che sia un profilo seguito alla Fiorentina. Nicolò ti chiede, Foloruncio che giocatore è? Foloruncio è un giocatore con grande energia, grande fisicità e una polivalenza molto gustosa, proprio per le sue caratteristiche. Spalletti l'ha chiamato in nazionale, sono curioso di vedere cosa ne trae, è un giocatore che secondo me può ancora crescere. Sdeg! Ci siamo ste, può tornare al tuo posto.